Una frana naturale o una frana pilotata? Stiamo parlando di alcuni massi accumulatisi sulla strada delle Vette in Sila, la strada panoramica più suggestiva dell'altopiano silano che collega Monte Scuro e passando da Monte Botte Donato si può arrivare all'Urica. Con questa interruzione quest'anno i tanti turisti che ogni estate percorrono questa lingua di strada lunga 13 chilometri immersa nella natura non lo potranno fare a causa di questo impedimento che però non sarebbe l'unico, perché dal versante opposto sembrerebbe essercene un'altra. Oltretutto con questi blocchi si precluderebbe l'intervento di eventuali soccorsi in caso di ingendio o in caso di altre emergenze. La strada delle Vette famosa anche d'inverno perché diventa una pista da sci di fondo naturale. Inoltre lungo questi meravigliosi 13 chilometri sono dislocati numerosi sentieri ben conosciuti dai tantissimi bikers e cicloamatori che già in questo periodo, come questi due cicloturisti tedeschi, percorrono in sella alle loro mountain bike. Insomma una vera e propria iattura per l'altopiano silano che già aspetta da ormai troppo tempo un suo definitivo rilancio turistico e che però tarda ad arrivare, come per esempio il master plan della Sira, una proposta di legge presentata in Pompamagna lo scorso mese di settembre alla presenza del governatore della Calabria Mario Oliverio e di numerosi consiglieri regionali. Ma ad oggi l'unica cosa concreta e visibile per una delle montagne più belle in assoluto, dove da anni ormai si parla di importanti interventi per il rilancio del settore turistico è rappresentata da un'ennesima negatività, l'interruzione della strada delle vette.